moglie e marito vanno a riprendere le analisi dal dottore il dottore chiede all'uomo di uscire un attimo la moglie chiede mi dica dottore cosa c'è devo parlarle di suo marito le analisi sono tutt'altro che buone ha una condizione di stress che potrebbe aggravarsi parecchio per il peggio cosa posso fare chiede la signora suo marito non deve agitarsi per niente deve essere sempre molto tranquillo nel caso che abbiate discussioni mi raccomando di non farlo arrabbiare e soprattutto di dargli sempre ragione per qualsiasi cosa altrimenti chiede la moglie altrimenti potrebbe avere non più di un mese ancora da vivere la moglie esce ed il marito le chiede allora cosa ti ha detto il dottore che ti è rimasto un mese e Grazie a tutti.